Rilanciare l'edilizia Catania nella sua provincia? Ma come? Cominciando ad avviare cantieri già finanziati e ancora bloccati. Ne hanno parlato assieme le organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL e le federazioni dei lavoratori delle costruzioni Filca, CISL, Fillea CGL e FNEAL UIL, nel convegno dal titolo Via i Cantieri Possibili, risolleviamo Catania e la sua provincia, che si è tenuto oggi nella sede dell'ente scuola ed ILE. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati i metodi attraverso i quali sarà possibile rilanciare l'economia etnea, attivando quelle procedure necessarie alla ripresa dei cantieri stallo a causa della scarsa gestione territoriale. Le imprese e i lavoratori hanno dimostrato avere con una responsabilità, un senso di responsabilità, una consapevolezza sulla devastazione della crisi economica che la classe politica non ha. Siamo molto più avanti di loro e anche in Sicilia stiamo dimostrando questo. Abbiamo fatto proposte, anche l'anno scorso, abbiamo fatto lavoratori e imprese in Sicilia a tutti i settori, dall'industria, artigianato, agricoltura, commercio, proposte di governo alla Sicilia, che non ha ricepito. Quindi siamo consapevoli della crisi e ancora una volta andiamo in piazza, perché è l'ultima chiamata. Cioè avere in piazza, in Sicilia, lavoratori e imprese assieme che chiedono non qualcosa per loro, di fare in modo che tutte le risorse disponibili a Comunicato Europeo vengono destinate allo sviluppo produttivo, a sostenere le imprese che investono, a sostenere un piano per il lavoro giovanile, a favorire processi di modernizzazione. Guardate, è una cosa importante, nessuno l'ha fatto in Italia. Un dato importante, lo dico sempre in questi giorni, il fatto che abbiamo oltre 7 miliardi e mezzo di euro, già previste dal 2007, che la regione ha frammentato di spesso, ma ne ha sbagliato, di cui 5 miliardi e 3 solamente piccole opere che non fanno sistema, mentre i fondi europei chiedono questo e abbiamo solo 1 miliardi e 2 per opere strategiche, ferroviare, viarie, energia, vuol dire che si è sbagliato tutto.